Una volta mia nonna mi ha picchiato con il ferro da stiro L'avevo preso una brutta piega Farò una cosa Farò una cosa Che nessuno si aspetta Userò Preparatevi Perché vedrete il leggendario Eeeh vai Oh no Hai visto come sono stato bravo e ho lasciato la kill Hai visto Sono veramente un bravissimo tank Cioè ragazzi ho gancato più miti di sim Oddio Ho fatto una kill Guarda che sto lasciando anche il pane Ma sei pochissimo Incredibile mamma Stavo Sto giocando proprio per il mio ADC L'hai visto Incredibile Mi assedi Ho anche Ho anche Il 33 Mamma mia Guarda guarda Perché vedrete il leggendario Eeeh vai Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Hai visto come sono stato bravo e ho lasciato la kill Hai visto Sono veramente un bravissimo tank Cioè ragazzi ho gancato più miti di sim Oddio Ho fatto una kill Ma sei fortissimo Ma sei fortissimo Incredibile Mamma mia Sto giocando proprio per il mio ADC L'hai visto Incredibile Ma mia sei veramente forte Ho anche il trinket Guarda 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 che spaccio Guarda che spaccio Guardo anche dall'altro lato Oh my god Ho livellato Scudino Non è stato una volta che hanno preso il drago buono Vado? Sono sicuri di arrivare così lontani? Io parto Vado 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 Flash 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 Vieni sopra Oh no Non cavinare da qui Che male sto fattino di merda È cato Dove essere la roba Non ho scelto il video di sotto Per finire la torre Eh per me si prendeva 500 volte E dicevo no Grandissimo Ezra Lì ho dito per lui Wow Oh my god Nio bot Nio bot Mid 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 Bot Bot Blu E lei è morta top Sì sì Contro Ramus Sì sì Bravo Ottima morte È una pink là Ah Ahia Mi sono vivo per miracolo Vero e proprio Ah ah Salvato il soltato Ezra Lo sanno Eh sì ragazzi però Eh 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 dai stavate tutti dietro Ho preso diventato tanky L'ho presa l'ho presa l'ho presa DJ Oh my god Oh my god Che game Ho preso pure il suo Ragazzi Ramus 100% win rate Eh Ma mamma mia Ve lo volevo dire però Farò road to diamond Con Con Ramus Forse recupero qualche punto Ok ragazzi Detto questo Io vi do la buonanotte Grazie mille per aver Strati qui con me Ovviamente i migliori game Finiranno anche su youtube Tutti quelli Tutti qualcosa Finiranno Quasi sicuramente Tutti su youtube Anche quelli che perdiamo Perché sono molto divertenti Comunque Visto che li giochiamo Sempre insieme Detto questo Vi saluto E vi rimando A lunedì Dalle 21 Alle 24 Salvo imprevisti E vi ricordo Che sul canale youtube Ora Mi sto organizzando Per due video a settimana Ma presto anche Tre video a settimana Al prossimo stream O al prossimo video Ciao